Domani 3 luglio parte il processo a carico di Michael Alessandrini davanti alla corte d'assise del Tribunale di Pesaro. Il 31enne Alessandrini è reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri, 27enne che fu ucciso con 23 coltellate nella sua casa di Via Gavelli in pieno centro storico a Pesaro. Il delitto avvenne il 20 febbraio 2023 al quale seguì una fuga in auto oltre confine dello stesso Alessandrini interruttasi con l'arresto in Romania. Gli step processuali hanno finora riconosciuto una semi-infermità mentale dell'imputato che non lo esenterà però dall'andare alla sbarra per omicidio pluriaggravato. Le udienze davanti al GUP lo scorso marzo hanno infatti ufficializzato il rinviaggiudizio per Alessandrini riconoscendo le tre aggravanti di premeditazione, futili motivi e crudeltà. Aggravanti dell'omicidio che arrivano dopo una serie di interrogatori in cui Alessandrini accampò da prima motivazioni deliranti quali ordini divini per poi far emergere lo scorso marzo un risvolto sentimentale nei confronti dello stesso Panzieri. Da domani inizia l'iter giuridico nei confronti di Alessandrini attualmente in custodia nel carcere di Villafastigi. Il 31enne rischia l'ergastolo e a difenderlo saranno gli avvocati Carlo Taormina e Salvatore Asole.